Il vortice del gossip ha resucchiato i due nomi più in vista nella città di Napoli al momento. Parliamo di Maria Esposito, H. Rosarici, Di Marefuori e il rapper Giollier, che di recente ha pubblicato il brano L'ultima poesia con Ultimo. Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, RTL 125, tra i due ci sarebbe del tenero. L'innesco del gossip sarebbe stato il video del brano Ipometub Te, nel quale la bella Maria Esposito ha recitato. Giollier e Maria Esposito stanno insieme? La risposta è arrivata dai diretti interessati, direttamente sotto al post, che è stato prontamente rimosso da RTL 125. Non stato buon cacap, ha scritto Giollier senza fare troppi giri di parole. Il cantante, reduce da un incontro con gli studenti della Federico II, ha voluto tutelare la sua unione con Valeria, con cui sta da più di due anni. La replica è arrivata anche da parte di Maria Esposito, che proprio sotto al commento di Giollier ha risposto senza badare troppo alla sentassi. Confermo con Tefra. Con i commenti dei diretti interessati arrivati sul post, il gossip è stato prontamente eliminato. Eppure, si sa, quando il sasso si lancia nello stagno è perché un po' d'acqua deve sempre fare il suo movimento. Ci saranno sviluppi futuri? Chi vivrà, vedrà. Gabriele Parpiglia aveva raccontato. Pare che sia esploso l'amore, anzi, lebiamo il pare, è scoccato l'amore tra Giollier e Maria Esposito. Non vogliamo parlare dell'odio social che ci circonda, manteniamo la leggerezza e la notizia è la seguente. I due chiaramente sono attentissimi e sono sicuro che non saranno felici di sentire questa notizia che stiamo dando in anteprima.